Ben trovati dal Tg della Mobilità, le urchiusure e deviazioni per l'allestimento del circuito della Formula E che si correrà sabato e domenica dalle 20.30 di stasera alle 5.30 di domani. La corsia laterale della Colombo sarà chiusa da Piazzale Marconi a Piazzale dell'Industria in direzione centro, deviate le linee 31, 700, 71 e 780 e fino a domenica 11 aprile Capolina di Piazzale dell'Agricoltura è spostato a Piazzale Sturso con salita e discesa dei passeggeri a Viale Beethoven. Le linee notturne NMB, NME stanotte deviano sulla Colombo. Inoltre fino al 14 aprile cambio di capolinea per la linea 788, i bus fermano in via di Val Fiorita all'altezza della stazione metro Magliana.